A Fiorillo vanno fatti tanti complimenti sull'1-0 per il Foggia, una volta è vero ti ha aiutato il palo, però su Iemmello e poi sul centrocampista del Foggia che aveva incrociato quel destro si è stato provvidenziale. Beh, credo che sia stato importante in quel momento cercare di fare degli interventi per mantenere la squadra in partita, infatti senza mai mollare poi c'è stato l'episodio del rigore di Mancuso e sono contento che magari quei due interventi appunto sono serviti a far rimanere la squadra ancora viva perché c'era voglia di portare a casa un risultato. Portiamo a casa un buon punto al di là della partita, dopo una settimana un po' così e così, dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa e credo ci sia stata una grande reazione a livello morale e umana della squadra, al di là della prestazione della partita di oggi ma in settimana e questa è una cosa che fa ben sperare. Non è arrivata la vittoria, vittoria che ormai manca da diverse settimane e come giudichi tu a questo punto questo pareggio anche in ottica classifica, morale per l'ambiente? Beh è normale che la vittoria manchi un po' a tutti, vincere è la cosa più bella per noi, però ci sono momenti come questi dove la squadra ha dovuto tirare fuori qualcosa da dentro e chi conosce un po' la categoria sa che venire a fare un punto a Foggia e man mano che andrà avanti il campionato non sarà semplice, non bisogna farsi illudere dalla classifica perché il girone di ritorno poi cambiano gli allenatori, cambiano gli interpreti e questo rimane sempre un campo difficilissimo. I complimenti vanno a tutta la squadra per come ha lavorato e reagito in settimana. Un grande complimento va a chi oggi è entrato dalla panchina e che è entrato con il piglio giusto, ci ha dato una grande mano a tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per 5, 10, 20 minuti. Dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti per la nostra strada perché siamo lì, la classifica non lo neghiamo, è bella quindi non c'è bisogno di fare drammi eccessivi credo, questa squadra è sempre stata molto forte a livello morale quindi dobbiamo continuare a lavorare forte che arriveranno di nuovo risultati importanti. Vincenzo approfitto della tua sempre solita sincerità per chiederti, hai detto la classifica è bella, non è più bellissima magari come nel 2018, bisogna mettere da parte i sogni di gloria intesi come primo e secondo posto visto che il Brescia corre, il Benevento ha iniziato a camminare, il Palermo ha ripreso la sua marcia e pensare a blindare i playoff oppure il Pescara vuole provarci fino in fondo anche per i primi due punti, per i primi due posti? Ma io credo che anche quando la classifica era bellissima noi volevamo e vogliamo blindare i playoff sappiamo che ci sono delle rose molto forti e stare sempre lì è un segnale importante perché anche quando non arrivano magari delle vittorie rimanere sempre lì vuol dire che questa squadra ha valori importanti però ripeto la cosa importante è che questa squadra ha reagito a livello morale questa settimana e questa è una cosa che fa ben sperare, fa capire che è un gruppo importante che lavorerà ancora più forte e tornerà sicuramente a fare le vittorie che merita, continueremo su questa strada. Vincenzo mi ricollego però a questo discorso, cosa è cambiato rispetto ad un paio di mesi fa? Perché questa squadra non riesce ad essere più brillante, più incisiva così come era fino a qualche settimana fa? Cosa è cambiato? Ma cosa è cambiato? Non è che cambia qualcosa, cambia gli andamenti, cambiano i risultati ma perché cambiano gli avversari, iniziano a pesarsi di più le partite tra chi si deve salvare chi vuole raggiungere qualcosa di importante e si mette un po' da parte nel girone di ritorno il bel gioco in questo campionato, credo rispetto all'andata. Se andiamo ad analizzare il girone di ritorno sono partite molto più fisiche di quelle che è il girone d'andata. Credo che un piccolo calo, le squadre lo hanno tutti e ripeto, noi abbiamo dalla nostra un gruppo forte che sa che passato questo momento, stando uniti, stando coesi, isolandosi da qualsiasi cosa abbiamo i tifosi dalla nostra parte che è un'altra cosa importante, quest'anno questo gruppo si è fatto apprezzare quindi sappiamo benissimo che appena torneranno i risultati potremmo dire la nostra usciamo da questo campo di nuovo moralmente forti dopo una settimana difficile.